Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura torniamo ad occuparci dell'avvertenza FIMER, un colpo di scena purtroppo questa mattina in tribunale ad Arezzo. I legali dell'azienda infatti hanno annunciato di aver depositato la rinuncia al concordato preventivo, un atto che apre uno scenario preoccupante per lo stabilimento di Terra Nuova Bracciolini e per i suoi 280 dipendenti. Non è finito bene l'incontro al tribunale di Arezzo sulla situazione della FIMER. Erano stati infatti convocati i rappresentanti del fondo Grebul, McLaren e gli attuali proprietari. Il giudice delegato voleva capire se c'erano i margini per un accordo, 10 milioni che il fondo avrebbe dovuto versare, ma non sono mai stati versati perché l'accordo di fatto non c'è stato. Qui si sta facendo spengere e chiudere un'azienda che ha un portafoglio ordini di 10 milioni e che chi la governa non permette la saturazione degli impianti perché non ha i soldi per comprare i componenti. E abbiamo uno spettatore che continua a manifestare la volontà di intervenire e di rilanciarla, che ci metterebbe i soldi ma gli viene impedito di metterceli. L'avvertenza dunque non è affatto risolta. Lavoratori e sindacati confederali che avevano presidiato fuori dal tribunale l'incontro hanno raggiunto lo stabilimento di Terra Nuova Bracciolini. Indipendentemente da quello che può essere il loro obiettivo, oggi c'è solo un interesse primario da portare avanti che è quello della continuità dello stabilimento e la salvaguardia dei livelli occupazionali. Sia di Terra Nuova, lo ricordo, sia di tutto l'indotto, sia anche dello stabilimento di Vimercate. Nel tardo pomeriggio c'è stato un incontro nella sala consigliare del comune del Valdarno Aretino. Poi i dipendenti sono tornati in corteo verso lo stabilimento dove scatterà un'occupazione permanente. Dopo le perquisizioni di ieri all'alba alla Chimet, emergono adesso nuovi dettagli sull'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze. Vediamo. Un traffico illecito di rifiuti anche pericolosi che avrebbero prodotto un profitto di oltre 21 milioni di euro è l'ipotesi della Procura Antimafia di Firenze che indaga su un presunto traffico illecito di rifiuti pericolosi 5 le persone iscritte nel registro degli indagati. Le perquisizioni hanno interessato le province di Firenze, Arezzo, Roma, Viterbo, Pisa e Brescia per l'Aretino. Hanno riguardato principalmente la Chimet, l'azienda di Badia Alpino specializzata nel recupero degli scarti dei metalli preziosi. In tutto sono state 8 le aziende perquisite dal NOE. La Procura ipotizza un traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti speciali, circa 84 mila tonnellate avviate al recupero e 12 mila allo smaltimento tra il 2012 e il maggio del 2023. Gli scarti, dopo essere stati declassificati secondo la Procura in rifiuti non pericolosi, sarebbero stati avviati al recupero fino al novembre 2021 in impianti, anche grazie alla predisposizione secondo gli inquirenti di documentazione ad hoc. Non essendo autorizzate alla ricezione dei rifiuti pericolosi, sempre secondo la Procura, si sarebbe fatto perdere lo status di rifiuto e la conseguente tracciabilità mediante la produzione di aggregati riciclati non legati commercializzati come materie prime e secondarie ad aziende, allo stato terzi e alle indagini attive nel settore dell'edilizia. Sarebbero stati così incassati solo per il produttore profitti per almeno 21 milioni di euro. Anche la filiera successiva, grazie a questo escamotage, avrebbe guadagnato circa 5 milioni e mezzo di euro. Già nelle scorse ore, Kimet aveva precisato che la perquisizione sarebbe stata l'ennesima verifica riguardante il codice attribuito al rifiuto risultante all'esito del processo di recupero dei metalli preziosi. Nello specifico, il controllo si è incentrato, precisava Kimet, sul conferimento di tale rifiuto ai fini del suo recupero a un impianto del Viterbese, che si è protratto sotto il costante controllo di Arpa Toscana, Lazio, Regione Toscana e Regione Lazio dal 2012 al 2021. L'azienda è fermamente convinta di aver sempre attribuito un corretto codice al rifiuto. in ciò confortata dai sistematici e approfonditi controlli cui è sempre stata sottoposta. Torniamo a parlare adesso dell'aggressione che lo scorso gennaio si era consumata a Pozzo della Chiana dove un uomo aveva preso a martellate la moglie. Oggi si è concluso il procedimento penale a suo carico. È stato condannato a sei anni di reclusione per tentato omicidio l'operaio di 53 anni che lo scorso anno prese a martellate la moglie in un appartamento di Pozzo nel comune di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo. La donna, 48 anni, dopo l'aggressione non aveva mai perso conoscenza nonostante avesse perso molto sangue. Trasportata all'ospedale delle scotte di Siena era stata dimessa con 30 giorni di prognosi. La donna aveva provveduto poi a sporgere subito denuncia nei confronti del coniuge dal quale sembrava si volesse separare. Da qui la reazione folle del marito di professione operaio incensurato. La sentenza è stata pronunciata oggi presso il Tribunale di Arezzo dal giudice Giulia Soldini. Il pubblico ministero Laura Taddei aveva chiesto 8 anni. Al 53enne, che aveva richiesto il rito abbreviato, sono state riconosciute le attenuanti generiche. L'uomo si trova adesso agli arresti domiciliari. È grave un 58enne morso da una vipera oggi mentre si trovava fuori nella comune di Anghiari. Subito sono scattati i soccorsi, mobilitati i mezzi del 118. L'uomo è stato preso in carico dal soccorso Pegaso, che lo ha portato in codice rosso all'ospedale senese delle scotte. E sempre i mezzi del 118 sono intervenuti anche poco dopo le 15 ad Arezzo per prestare soccorso a un minorenne caduto da cavallo, portato al pronto soccorso dell'ospedale San Donato in codice giallo. È ferito anche un altro giovane nell'Arettino a Montevarchi, un pedone investito in via Guglielmo Marconi. Il ragazzino è stato portato al Meyer in codice giallo da Pegaso 2 sul posto, oltre ai sanitari anche i carabinieri. Un altro incidente si è verificato nella notte a Vitiano, lungo la strada regionale 71, due le auto coinvolte. Una pare fosse parcheggiata di fronte ad un bar, quando per causa in corso di accertamento ha urtato la vetrina dell'esercizio commerciale. Due persone sono rimaste ferite nell'impatto, una donna di 35 anni e una bambina, portate all'ospedale San Donato in codice giallo. E adesso voltiamo pagina e cambiamo argomento per andare a vedere il nuovo distintivo della Polizia Municipale, presentato questa mattina alla città e alla stampa dal comandante Aldo Poponcini. E a forma di scudo il nuovo distintivo della Polizia Municipale di Arezzo, presentato adesso alla città. Un ritorno alla tradizione con raffigurato sulla placca il cavallino rampante nero sul sfondo bianco. Diciamo che si è voluto cambiare la placca che simboleggia la città di Arezzo con il gonfalone e di attuare una placca innovativa per la nostra divisa, affinché la Polizia Municipale abbia, diciamo, sulla divisa una rappresentanza del gonfalone e della giostra di Saraceno. Polizia Municipale che è diventata importantissima anche per la sicurezza della città. Noi siamo una delle polizie a carattere non generale. Si cerca di coagliuare le altre forze a carattere generale in modo che la sicurezza in città e la sicurezza percepita sia migliorata. Parliamo adesso di Coingas dopo le dimissioni di Franco Scortecci. Oggi è arrivata la nomina di Maria Paola Petruccioli ad amministratore unico. È la prima donna alla guida della partecipata del Comune di Arezzo. Maria Paola Petruccioli è il nuovo amministratore unico di Coingas, la prima donna nella storia della partecipata del Comune di Arezzo. La sua nomina necessaria dopo le dimissioni di Franco Scortecci è stata votata ampiamente dalla maggioranza ma i sindaci di centro-sinistra si sono astenuti. In particolare si contesta il metodo. Un percorso non condiviso dal Comune di Arezzo ha dichiarato il sindaco di Lucignano, Roberta Casini, ai microfoni di Arezzo 24. Non ci hanno convinto le dimissioni di Scortecci, manovre interne al centro-destra che non dovrebbero coinvolgere le partecipate che erogano servizi importanti per il territorio e i cittadini, denunciamo il metodo. Credo che la decisione di Scortecci sia stata libera e legittima, afferma invece Petruccioli, così come libera e legittima è stata la proposta da parte del Comune di Arezzo del mio nome. È un nome indubbiamente vicino all'area civica di centro-destra che ha sostenuto l'ultima elezione di Alessandro Ghinelli. Strumentalizzare la mia nomina, conclude la Petruccioli, non serve davvero a nessuno. Il 2 giugno ricorre il 77esimo anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana e anche ad Arezzo si svolgono le solenne celebrazioni. Alle 10 al Sacrario dei Caduti, in via dell'Anfiteatro, l'Alza Bandiera e la deposizione della Corona di Alloro. Alle 10 in quarto all'Anfiteatro Romano, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e poi il saluto del Presidente della Provincia del Sindaco di Arezzo. Saranno infine consegnate le onoreficenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. E domani torna per le vie del Centro Storico Aretino anche la Fiera Antiquario, un'edizione speciale, quella di giugno che durerà tre giorni, da domani appunto sino a domenica 4 giugno. E in concomitanza torna anche l'Arezzo Selezione Vintage nel fiostro della biblioteca. Adesso ci spostiamo in Valdichiana invece a Lucignano dove l'Associazione Borghi Più Belli d'Italia in Toscana hanno siglato il Manifesto per la Sostenibilità. È una sostenibilità a tutto campo, sulla quale dobbiamo ragionare, ma soprattutto avere una strategia che ci porti a prefigurare un futuro che non sia quello di un mondo che va a sbattere contro un muro. È stato già ribattezzato il Manifesto di Lucignano ed è un impegno ad azioni di sostenibilità ambientale, economica e sociale. L'Associazione I Borghi Più Belli d'Italia in Toscana formata da 29 comuni ha avvertito infatti la responsabilità che deriva dalla bellezza dei propri luoghi e vuole salvaguardarla condividendo i valori in linea con gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030. Gli elementi fondamentali di questo manifesto che vogliamo condividere con tutti i borghi di Toscana e magari provare anche ad esportarlo fuori è quello soprattutto di dare una speranza, portare un contributo attraverso quelli che sono gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 a far sì che la raccolta dei rifiuti la salubrità dei nostri giardini pubblici faccio solo l'esempio del fatto di non utilizzare pesticidi diserbanti nei giardinetti pubblici dove tutti mandiamo i nostri bambini a correre magari non sappiamo se quest'erba è trattata in maniera corretta così come il recupero dell'acqua piovana così come la cura del paesaggio. I borghi possono fare la differenza perché sono davvero tanti rispetto all'altro tessuto quindi lo fanno le città ma la parte straordinaria e vitale della parte più interna, dei borghi, dei territori più piccoli io credo che su queste tematiche possono davvero fare la differenza. I borghi più belli d'Italia hanno così sottoscritto il manifesto nella sala del Consiglio Comunale di Lucignano che il prossimo settembre ospiterà il Festival Nazionale. Al Festival Nazionale parleremo 8, 9, 10 settembre qui a Lucignano di queste questioni sotto tutti i punti di vista e soprattutto pianteremo per ogni comune che arriverà qui da tutta Italia, che fa parte dei borghi più belli d'Italia un albero proveniente da quelle zone e soprattutto sarà un festival plastic free sul serio. Dalla Valdichiana alla Valdarno l'ormai famosa e vistosa coppia di occhi egiziani che si è insediato da tempo sulle sponde dell'Arno a San Giovanni Valdarno è diventata adesso una famiglia come vediamo in queste immagini accanto ai due adulti nelle acque del fiume nuotano anche i piccoli. È stato così chiarito anche il giallo degli avvistamenti per un certo periodo infatti era segnalata la presenza solo di un esemplare, l'assenza era dunque per covare. Parliamo ora di Giostra della Zara Cino si avvicina infatti la 143esima edizione in programma sabato 17 giugno alle 21.30 anche quest'anno la vendita dei biglietti sarà gestita in prima istanza attraverso l'ormai collaudato Click Giostra Day in collaborazione con la fondazione Arezzo in Tour che permetterà di prenotare online i biglietti e ritirarli presso la biglietteria del percorso espositivo i colori della Giostra in Piazza della Libertà. Il forman di registrazione e prenotazione dei tagliandi sarà attivo da giovedì 8 giugno dalle 15 alle 18 ogni utente potrà richiedere un massimo di 4 biglietti. Una volta conclusa la vendita su prelazione dalle 9 della 12 giugno sarà attivata anche la vendita libera online sia per la Giostra che per la prova generale che è in programma invece per il 15 giugno. Adesso apriamo la pagina dello sport Andrea Poggesi e Samuele Zona faranno parte della Rosa Amaranto anche per la prossima stagione. La notizia era nell'aride e è stata ufficializzata oggi dalla società. Il terzino destro, classe 2002 si lega al club Amaranto con un accordo biennale scadenza 30 giugno 2025. Idem per il terzino sinistro coetaneo di Poggesi. L'Arezzo ha reso noto anche che Jacopo Ermini, classe 2005 prodotto del vivaio si unirà alla prima squadra andando a ricoprire il ruolo di terzo portiere. Sentiamo adesso invece le parole di altri due giocatori Amaranto che hanno sempre rinnovato con l'Arezzo Mirko Lazzarini e Luca Trombini. Un percorso straordinario che abbiamo fatto insieme da chi l'ha vissuta in campo da chi dietro le quinte e dalla società è stata un'annata stupenda che mi porterò sempre dentro nel mio cuore. Ero senza squadra arrivavo dall'annata a Varese ero un po' deluso per la non riconferma del Varese e ero in quel periodo lì mi ricordo di essere in Liguria ero con la famiglia e ero in cerca di squadra quando poi mi ha suonato il telefono ed era il direttore Paolo Giovannini non mi sembrava vero mi sembrava un sogno infatti penso che la trattativa dell'estate scorsa sia durata neanche un giorno per venire ad Arezzo Me l'auguravo l'ho aspettato e sono contentissimo che sia arrivato per questa grandissima opportunità per la possibilità di vestire di nuovo la maglia dell'Arezzo soprattutto nell'anno del centenario che è una nota di merito incredibile per un giocatore che desidera queste società qua questi palcoscenici e poi io mi sento un po' legato questa società che mi ha dato tantissimo e spero di ripagarla sul campo la fiducia che mi ha dato noi per la prossima stagione dovremmo pensare come sempre a partita per partita noi dobbiamo pensare a domenica per domenica senza porsi dei limiti e avere comunque degli obiettivi importanti perché l'Arezzo merita degli obiettivi importanti è stata una stagione incredibile dove siamo riusciti a riportare l'Arezzo dove merita nell'anno del centenario è stata veramente un'annata che è straordinaria che ha lasciato delle emozioni veramente forti e siamo riusciti ad andare in Lega Pro per me poi c'è stata una soddisfazione doppia con la vittoria del Cavallino d'Oro che è veramente un premio straordinario e non mi sarei mai aspettato un'annata del genere dai è stata veramente stupefacente diciamo di sì come avevo detto sono uno dei pochi che non aveva mai fatto professionismo a livello giovanile diciamo che ho fatto una scalata graduale sono finalmente riuscito a raggiungere la Serie C è stata una bella soddisfazione è veramente una cosa che ci tenevo a fare no è stata una sorpresa perché ha fatto l'annuncio in diretta non lo sapevo nemmeno io c'era stato un po' di voci ma poi diciamo che la sicurezza l'ha data a lui è stata un'emozione incredibile sono contento di rimanere qua in una città che mi ha accolto veramente bene sono arrivato un anno e mezzo fa in una situazione un po' complicata invece adesso siamo comunque riusciti a fare qualcosa di storico che appunto entra nella storia sono molto felice di continuare diversi anni in questa società che è una società straordinaria con progetti importanti no sicuramente sarà una bella sfida perché comunque sarà il mio primo anno da professionista e cercherò di affrontare ogni allenamento ogni partita comunque tutta l'annata dando sempre il massimo e riuscendo comunque a toglierci delle belle soddisfazioni dai passiamo alla basket ieri sera la Sibbe Prato è passata al Palasport Estra portando la serie finale a gara 5 vediamo il servizio Amara sconfitta per l'Amen scuola basketarezzo che perde gara 4 al Palasport Estra sbattendo contro la solidità di Prato e contro la sfortuna che ha privato gli amaranto del miglior realizzatore Fornara già nel secondo quarto prima parte di gara a ritmi molto elevati con l'Amen che non riesce però a ripartire dalla difesa con cui aveva chiuso gara 3 gli ospiti mettono la freccia poco dopo il primo mini intervallo poi una tripla allo scadere di Fornara permette all'Amen di chiudere sul meno 2 il primo parziale la partita scorre in equilibrio con Salvadori che ricuce i tentativi di allungo a Rettini dopo l'uscita per infortunio di Fornara Arezzo ha un comprensibile momento di difficoltà poi Vaselovinovic firma il canestro del 42-41 con cui le due squadre vanno all'intervallo lungo a rientro dagli spogliatoi miglior momento dell'Amen che riesce ad avere la forza di piazzare un break di 10-0 la Sibbe reagisce partendo da una tripla di danesi poi sono Salvadori e Mascagna salire in cattedra con i canestri da tre punti che colpiscono la difesa a Rettina 59-62 a fine terzo quarto la zona ordinata da Coach Pinelli toglie i riferimenti offensivi alla SBA che perde lucidità necessaria per aumentare la propria pericolosità offensiva la Sibbe invece cerca Salvadori vicino a Canestro che ripaga la fiducia segnando con continuità con il passare dei minuti poi l'Arezzo smarrisce la via del Canestro così Pacini mette dentro cinque punti che portano la formazione ospite oltre la doppia cifra di vantaggio 67-79 al 37esimo Vasilovinovic segna una tripla ma è troppo tardi per impensierire Prato che gestisce gli ultimi palloni portandosi a casa una vittoria per 81-73 che allunga la serie ad una gara 5 che si giocherà domenica prossima alle 18 alla palestra Toscanini di Prato nella nota negativa della sconfitta ce n'è però una estremamente positiva quella del numerosissimo pubblico che ha riempito il Palace Portestra sostenendo l'Amen sin dai primi canestri Prato si sa che è un campo difficile però ci abbiamo vinto due volte vediamo se Prato è così brava da chiuderla andiamo là non abbiamo più niente da perdere siamo spalle al muro come loro del resto è gara 5 siamo stati già bravi a arrivare a gara 5 con loro quindi vedremo cosa si può fare si può dire che il sogno momentaneo della serie B è temporaneamente ribandato il sogno il sogno c'è da quando è iniziato il playoff però ti ripeto non è mai facile quando giochi con squadre così esperte che hanno giocatori che hanno fatto la serie B non è facile vincere parole bravissimi ma anche oggi siamo stati molto bravi non è che ci è mancato anche Federico e per noi è il nostro miglior giocatore il miglior realizzatore siamo rimasti in partita fino alla fine quindi ci proveremo non solo Federico è il vostro miglior giocatore ma anche si può dire il beniamino del pubblico dato anche l'importanza che ha avuto soprattutto nelle altre gare precedenti soprattutto con Luc che lo ricordiamo certo per noi è il nostro terminale offensivo numero uno quindi di sicuro però troveremo altre soluzioni dobbiamo trovare altre soluzioni se lui non ce la fa andremo a Prato con la faccia giusta questa perra stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci a presto